È stato un lunedì di lacrime e commozione al Bearzi, stamattina i ragazzi, i compagni di scuola di Daniele si sono ritrovati per un momento di preghiera. Lei che cosa ha percepito? La scuola si è stretta attorno a questo incredibile dramma della famiglia Burelli? Ho percepito un silenzio commovente, un silenzio che parlava tanto e diceva quanti ragazzi, seppur nella tragedia e seppur anche nella loro età, che condividono con Daniele, ma capiscono il valore della vita, capiscono l'importanza di ricordare Daniele e la sua famiglia in questo momento, credo, tanto faticoso. Lei lo conosceva, Daniele? Frequentava la seconda classe del corso di meccanica? Aveva questa passione, questo hobby incredibile per i motori? Sì, è due anni che è da noi, nella nostra scuola. Aveva cominciato con il tecnico e poi si è accorto che non era molto prodotto per lo studio, ma molto di più per la pratica e quindi aveva cambiato percorso ed era nel centro di formazione professionale. Era davvero appassionato del suo lavoro, era proprio un lavoratore. Noi chiamiamo in intelligenza nelle mani questo studio pratico, lui era proprio appassionato di questo e in due anni da noi si è fatto un Natale, per cui era proprio bravo. Ieri nel pomeriggio i genitori, attraverso un appello, un monito proprio con i social, si sono rivolti agli amici affinché queste tragedie, queste bravate non si ripetano. Voi come scuola che cosa intendete fare? Quello che abbiamo sempre fatto è cercare di educare i ragazzi giovani, di educarli dal senso al valore della vita, di educarli a capire quanto è importante custodire, conservare, vivere bene un dono che abbiamo. Sicuramente in questo momento ci dà l'opportunità, come hanno detto anche i genitori, di far riflettere un po' di più i ragazzi su quello che è capitato e su quello che sarà la loro vita, la loro che ce l'hanno ancora. Sono previsti altri momenti di ricordo anche in giornata, giusto? In giornata sì, chi vuole può partecipare durante la pausa pranzo, un altro momento di preghiera un po' più lungo, un po' più intenso, però non forse alla portata di tutti. E chi vuole però è facoltativo può partecipare. Faremo anche un breve momento di preghiera con la classe del fratello, Giulio che ha elementari da noi e con la sua classe vivremo così un momento molto semplice, però così da bambini. Ecco però per far sentire anche la vicinanza al fratellino. Domani avremo un momento con l'istituto tecnico, in cui comunque è stato qualche mese e anche perché l'età è sempre la stessa, per cui ci fa piacere far riflettere anche loro, anche se non vanno più in quella scuola, ma far riflettere anche quei ragazzi sull'importanza della vita.